Poliduro, lo sta aspettando! Nel suo ufficio! Meraviglioso, fantastico. Mi cancelli l'appuntamento delle due? Quest'incontro potrebbe diventare un po'... letale. Attivare casco. Sequenza luci. Test fiamme. Avviare entrata spettacolare. Poliduro! Lord Business, so che quello speciale è scappato, ma... Non essere così serio! Dov'è quell'altro? Ehi, amico! Ehi, bello! Mi sei mancato! Oh, davvero? Conosci la mia collezione di cimeli? No, non credo proprio. Nessuno sa da dove venga questa roba. Questo è il mantello di Cher 8. Mi dicono che fa malissimo toglierlo. Vuoi provarlo? Beh! No, ma grazie.